Una nuvola gigante si muove ai giardini della Biennale. Sembra un oggetto spaziale, appare e scompare grazie all'aria che la riempie. È possibile afferrarla e farla volare, oppure entrarci come in uno spazio magico. È questa l'installazione che l'Università delle Arte Applicate di Vienna presenta al Carnevale dei Ragazzi. Siamo arrivati con un grande obiettivo e un gruppo di studenti di arte che lavorano con i bambini e cercano di motivare i bambini a giocare con queste strumenti e utilizzarli come un'esplorativa. Ogni movimento che i bambini fanno poi si ripercuote su questa nuvola gigante. Abbiamo anche delle performance che facciamo con i bambini. Abbiamo un coreografo che è venuto apposta da Vienna e che organizza questo stormo di uccelli con queste piccole nuvole giganti. E abbiamo anche altri oggetti che si possono cavalcare oppure saltarci sopra e interagire. È tutto ciò che lavorano con la immaginazione, con la fantasia, con la creatività. Sentire il corpo e vedere che sei parte del gruppo e usare quello che abbiamo portato con noi e in modo di sviluppare i contatti social. È tutto ciò che si tratta di giocare e l'invenzione di cose. L'arte come punto di partenza. Suggerire nuove visioni artistiche per contribuire a formare la società del futuro. Ecco Create Your World. La mostra che Ars Electronica presenta al Carnevale dei Ragazzi. Installazioni creative focalizzate sulle relazioni tra arte, tecnologia e società. Ci sono un'organizzazione culturale e educazione culturale. E siamo specialmente dedicati a il lavoro creativo e artista con le tecnologie. Abbiamo anche un laboratorio di researche che si chiama a nuovi idei. Come imparare la creatività di persone. Come aiutare le persone a expressare le loro idei. Come aiutare le persone a capire il futuro in un modo migliore. Come aiutare i produttori invece di consumisti. Come aiutare i prodotti nei luogo di cose. Come aiutare i i prodotti in un modo migliore. free knowledge, and that an upcoming, an up-growing young person can join what to do and not, and be a personality in that terms to be critical in the positive way. We are very pleased by the initiative of President Barater. Kids' Carnival is a wonderful idea and I'm really pleased that many young people are able to show their projects here in Venice and I think I can say right now that we will join also the third Biennale of Kids' Carnival. Thank you very much for the invitation.